Buongiorno a tutti amici di Ayrston, eccoci di nuovo qui insieme per una nuova grande avventura. Allora, grandi novità ragazzi, ma si sapeva un po', sta per uscire la nuova espansione, che sarà il Meccania. Ho dato un'occhiata ad alcune carte, ce n'è una del druido che è molto carina, che è un costo 10, 7-7, che ti permette di scegliere o di guadagnare 10 d'armatura, oppure di ripristinare i tuoi cristalli di mana. Beh, diventa una giocata interessante, diventa una giocata abbastanza interessante, sicuramente una carta molto interessante. Però, prima, come al solito ragazzi, per chi mi segue da più tempo, prima di andare a parlare dell'espansione, io farò, se è possibile, se ci riesco, ma penso di sì, farò un video dedicato all'espansione, dove andiamo a vedere tutte le carte. Però, finché non escono tutte, mi sembra un po' inutile andare a fare un pezzettino oggi, un pezzettino domani, le analizziamo tutte quante insieme. Così ci facciamo un bel video di un'ora e passa, così siete contenti e vi suicidate insieme a me. No, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, ragazzi, sto continuando a rancare. Ho abbandonato il mazzo mago che vi ho fatto vedere, perché mi ha portato, senza problemi, mi ha portato al 13. Però, al 13, un po' per forza per jella, un po' per sfortuna, magari vinco una partita e ne perdo una, vinco una partita e ne perdo una. Non riuscivo a prendere il verso giusto. Allora, ho deciso di fare un cambiamento. Ho deciso di ritornare un po' al passato, perché ho sì preparato... Ho anche il cosiddetto mazzo cancro attuale, che è il Mid Shaman, però non volevo ancora giocarlo. Volevo prima rancare con altri mazzi e ho voluto provare una nuova versione, cioè nuova. Per me è nuova, perché l'ho montata da 3-4 giorni. Però, una nuova versione del Renolock. Perché? Perché ho visto che riesce a contrastare un po' tutti i mazzi. Soffre un po', come al solito, soffre un po' gli agro spinti, soprattutto se non ti entrano certe carte. Però, ho visto che mi dà una buona serie di vittorie e riesco a scalare agevolmente la classifica. Le partite durano un pochetto di più, effettivamente. Però, ma al 12 ci può anche stare, ecco. Vi faccio vedere il mazzo. Io gioco un Fuoco dell'Anima, un Potere Travolgente, una Spira Letale, una Guardia del Furia, Furia del Sole, uno Venditore, una Melma delle Paludi. Molto forte, ragazzi, la Melma. Vi dà un buon value. Un Vatte della Rovina, un Bran Barba Bronze. Chiaramente, Bran, ragazzi, cercate di giocarlo possibilmente da poterlo mandare in combo. Col Veggente per curarvi di 6, con il Codo per distruggere contemporaneamente due creature, oppure sempre col Mercante dei Rinfreschi, oppure con lo Scovenditore. Comunque, cercate di trarne value. Se no, vabbè, se siete di terzo, avete lui e basta, o pescate, o se no, se siete contro un agro che dovete fare un po' di board, giocatelo, chiaramente. Però, possibilmente, valutatelo quando lo giocate. Il Capobanda Imp, che non può mai mancare. Un Dardo dell'Ombra. Ce l'ho messo, ragazzi, perché ho notato spesso, magari, quando giochi i maghi che hanno il 2-4, il Dessa Fiamme, lui te lo rimuove facile. Ci sta bene, ci può stare bene, come Removal. Un Irar Demoniaca, come Spazzata. Un Tecnocontrollore, che in certi casi aiuta parecchio, soprattutto contro i mazzi agro. Quindi, ci sta sempre bene. Certo, è molto guidato dall'RNG, però, ragazzi, può aiutare, può aiutare. Un Veggente della Terra, un Difensore di Argus, un Drago del Crepuscolo, un Fuoco Infernale, un Mercante di Rienfreschi, come ho detto prima, un Ombro Fuoco, uno Spezza Magie, un Codo, un Leroy Jenkins, un Senza Volto Mutante, un Rino Jackson, un Risucchio dell'Anima, una Silvana, un Taurissian, una Distorsione Fatua, un Ragnar. Una Lestrasa e un Gigante di Montagna. Allora, ragazzi, come lo gioco io, di base? Cioè, io lo gioco da pescare il più possibile, chiaramente. Pescando il più possibile per raggiungere e avere in mano la mia combo. La mia combo che cos'è? È l'Eroi Jenkins, in combo con Potere Travolgente, in combo col Senza Volto Mutante. Ma voi direste, ma è una combo da 11 di Magna, come cavolo fai? Bravissimi, ottima, ottima domanda. Come si fa a sfruttare questa combo? Chiaramente lo sapete perché non siete ignoranti, però, magari c'è qualcuno che ancora non è avvezzo al gioco. Come si fa a sfruttare questa combo? Il segreto è Taurissian, ragazzi. Taurissian ci abbassa il costo delle magie. Quindi voi che cosa dovete fare? Voi dovete giocare Taurissian, per forza, ve lo dico, sì, quasi per forza, a meno che non avete una mano stupenda e volete trarne molto value, ma io Taurissian lo gioco sempre e solo avendo almeno una di queste tre carte in mano. Ok, ragazzi? In modo che voi abbassate di costo una di queste tre carte, o tutte e tre, o solo due, a seconda di quello che avete. Però, in modo da poter fare la combo a mana 10, perlomeno. In modo che voi a mana 10 avete una combo che è molto devastante, perché è una combo da 20 danni, che fa molto la differenza. Chiaramente, se l'avversario è 30, giocate alle strada, così lo dimezzate. Ci sono tante possibilità. Alle strada, come vi ho detto, io la uso per portare l'avversario a 15, per rendermi più facile la shottata. Però, sicuramente, se siete molto in difficoltà, alle strada vi permette di curarvi. Quindi, valutatela, valutatela assolutamente. Ragnarossa è un bel palo, ci sta sempre bene. Silvana è ottima, ragazzi, giocarla in combo con Ombrofuoco. Io, cercate sempre di trarne value. Quindi, a meno che non la giocate mai a sciucco, io lo dico. Cioè, giocarla che in campo non c'è niente. Perché l'avversario ve la potrebbe rimuovere facile e non ne traete value. Ma, più che altro, perché lei è fortissima proprio con questa combo. Cioè, ipotizzando. L'avversario vi gioca contro Tyrion. Siete a mana 10. Voi gioca o a mana inferiore con Taurissian, con value di Taurissian. O con moneta, o quello che vi pare. Voi giocate Silvana. Fate Ombrofuoco e voi rubate Tyrion. Perché gli togliete lo scuro e ve lo rubate. Senza che lui muore. È un trade devastante per l'avversario. E quindi, cercate sempre di conservarla come carta. Però, certo, se non potete fare diversamente, è chiaro. E ecco qua. Questo è il mazzo. Io un mazzo del genere lo giocavo prima di altre... Prima, mi sembra... Prima di... Vabbè, prima dei demoni antichi. Un mazzo simile. Con alcune cambiamenti, chiaramente. Con alcune cose diverse. Però, è un mazzo abbastanza aggressivo. E ho visto che, comunque, ti permette di tenere il board. Per lo meno. Ti permette di tenere il board. Certo. Soffrite molto. E mi ne sono accorto. Soffrite un po'. Parecchio. Lo sciamano. Lo soffrite, soprattutto, se non vi entrano i removal. E se non vi entra Rino. Chiaramente. Altrimenti, lo sciamano lo gestite facile. Soffrite gli agro spinti, tipo... Tipo il mago e il cacciatore. Se non vi entra Rino. Se vi entra Rino, diventa difficile che riesce a chiudervi. Però, se non vi entra Rino, soffrite tantissimo. Anzi. Contro un mago, se non vi entra Rino, è praticamente persa. Detto, secondo me. Dopo, certo. Sta a voi come si gioca. A il vate della rovina, ragazzi. Voi vedetelo come carta che vi serve a far perdere un turno all'avversario. Ok? Quindi, vedete che l'avversario ha già avuto un piccolo starting buono. Magari ha un 3-2 in campo. O un 2-2, un 1-1, no? Voi giocate il vate. O ve lo trada, e quindi per spreca carte, oppure, e quindi comunque guadagnate un turno, oppure vi andrà faccia e pulite il board in modo che voi potete fare la giocata successiva pulitissima. Quindi, valutate. Non tenetevelo per, ah, me lo tengo il late game. Perché il late game, ragazzi, è molto facile rimuoverlo. Perché basta avere in campo già un paio di creature interessanti, che toglierlo è molto facile. Quindi, state attenti. Giocatelo più con l'idea di far perdere un turno all'avversario. Secondo me, va giocato così. Dopo, vedete voi, chiaramente, in base anche alla situazione. Ok, ragazzi. Ci facciamo uno o due gameplay, a seconda di quanto tempo abbiamo a disposizione. E sono in Wii Streak. Vediamo se riusciamo a mantenerla. Il mago, ragazzi, come vi ho detto, mi ha portato al 13, senza fatica. Però, cioè, mi ritrovavo, magari un po' per riella mia nel matchmaking, per carità. Però, vinci una, ne perdi una, vinci una, ne perdi una. O non mi entravano le carte, allora mi ero un po' stufato, adesso sta sempre lì. Ho detto, proviamo un altro mazzo. Allora, ragazzi. In questo caso, essendo contro un... Un... Uno sciamano. Ah, togliamo il fuoco dell'anima. Allora, la spira letale potremmo tenerla. Magari facesse il totem 1-1. E il dardo dell'ombra potrebbe essere utile tenerlo per togliergli l'eventuale 3-4. Il totem è totemico. Quello, il 3-4 che costa 2. Però, se tengo la spira, non tengo il dardo. Se tengo il dardo, non tengo la spira. Togliamo la spira. Magari ho sbagliato. Potrebbe essere un errore il mio, eh. Però, non voglio stare all'inizio... Cioè, all'inizio, ragazzi, dovete andare a cercare il gigante di montagna e cercare il dragone del crepuscolo. Come si giocava un po' al tempo il vecchio endlock. Quindi, non bisogna stare con la mano troppo piena di magie. A meno che non sono dei removal. Però, quella può essere interessante. Oh, è arrivato il gigante. Andiamo a pesca. Ok, vediamo l'unico cosa gioca adesso. Ecco, vedete. In questo caso sarebbe stato valido andare a pescare. Però, vabbè, ragazzi. Si può avere tutto dalla vita. Andiamo a pesca. Buona carta questa. Al prossimo turno possiamo giocare il gigante. Speriamo che lui non abbia... Speriamo che lui adesso non abbia la pecora. Ok. Vediamo un po'. Vabbè, qui per forza, ragazzi. Proviamoci. Sperando che non abbia la pecora di... La pecora alla fine non ha pescato tante carte. Speriamo che non abbia la pecora in mano. Ma se gioca la pecora per noi è meglio, eh. Su un gigante. Perché? Perché almeno dopo non ce l'ha per fermare le altre nostre creature. Ok. Penso che traderà a questo punto. Però, ottimo. È costretto a rinunciare a tutto tranne che al totem. Secondo me il modo per sconfiggere bene uno sciamano è cercare... E cercare... E cercare di costringerlo a giocare più creature possibili. Quindi lui, mettendo in campo molte creature, lo andate un po' a mettere in difficoltà. Quindi dovete stare attenti a usare le spazzate nel momento giusto. Ecco. Allora... Io qui mi andrei... Allora, qui potremmo fare... O peschiamo e rimuoviamo il 4-3. O peschiamo e rimuoviamo il 4-3. Oppure giochiamo lui... E vediamo lui cosa fa. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 carte abbiamo. 9 carte... Vabbè, facciamo... Facciamo così, ragazzi. Vediamo un po'... Vediamo... Facciamogli giocare qualche altra carta. In modo da avere più value nel fuoco infernale. Cono a prendere, candela! Ok. Almeno ho sprecato un dardo. Ho sprecato un dardo. Quindi... Alla fine non è male come cosa. E qui siamo costretti a pulire, ragazzi. Per forza. Allora... Siamo costretti a pulire. Giocare lui potrebbe avere senso perché abbiamo già un potere travolgente. Però io aspetterei. Quindi andiamo a pulire. E andiamo a pescare. Oh! Entra Torino. Buono. Ci fa comodo. Ci fa parecchio comodo. Lui non ha pescato tantissimo. Quindi per noi è buona come costa. Gioca solo 5 mana. Gioca un 5 mana un po' di troppo. Gioca un 5 mana un po' di troppo. Allora... Potremmo... Potremmo andare a trarre un po' di value... Con Taurissian. Sperando... Oppure... Lui avrebbe 5, 6, 7, 8 danni da farci. 8 danni più altri 3 se avesse il Bloodlust. 5, 8, 11. Ok. Potremmo anche andarci a rischiare di giocare Taurissian. Oppure... No. Io giocherei a questo punto... Sì. Giocherei... Giocarei Taurissian e prenderei un po' di value. Diamo un po' di value nelle nostre carte. In modo da poter fare entrare più... Più carte in combo. Vediamo. Vediamo quello che fa. Magari facciamo sprecare anche... Una pecora. Vediamo. La cosa migliore è che tradi con il 5, 5. La cosa migliore per noi. In modo che così dopo si ricomincia da ca'. Però adesso vediamo... Dipende anche da che carte da lui. Ok. Trada con il 5, 5. Per noi va bene. Per noi va sicuramente bene. Allora. Allora. Lui ha... 3, 4, 5 danni. Se fa bloodlust... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 danni. Eh. Iniziano ad essere tantini eh. Allora. Facciamo così. Mi chiedo... E facciamo... Ah, scusate. Ho sbagliato a pigiare. E facciamo così. E giochiamo anche lui. Riprendiamo controllo del board. Vediamo lui che cosa fa adesso. C'è un bel po' di carne al fuoco. Ok. Ma io andrei... Giocherei abbastanza semplice qui. Io farei così. Facciamo così. Togliamo lui che è una carta... Pericolosa. Ah. Si è reso. A posto. Eh. Non gli ha girato bene il mazzo. Ok ragazzi. Siamo arrivati all'11. Questa è una prova. Anzi. Abbiamo appena affrontato il mazzo cancro del momento. No. Sostanzialmente. E questo è anche per farvi vedere le potenzialità del mazzo. Riuscite a fare tantissime giocate diverse. Questo vi permette di poter trovare molti modi per riuscire a cavarvela. Ecco. E a me piace. A corrisone no. Non possiamo fare un'altra partita perché mi si è fatto un po' tardi ragazzi. Però io ecco. Mi premeva più che altro farvi vedere come veniva strutturato il mazzo. E come giocarlo di man, di testa. E penso che di avervelo fatto capire. Ora vediamo, ora vedrò di continuare la ranked. Le ranked appena apposto a tempo. E semmai di entrare nell'uso di qualche altro mazzo chiaramente. E va bene ragazzi. Io per oggi vi saluto. Spero che vi state divertiti. Come al solito condividete il video. Mettete un bel mi piace. Commentate. Commentate se avete domande o cose da chiedermi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.